Gruppi criminali storicamente contrapposti avevano trovato un accordo comune per la gestione del traffico di stupefacenti nel Salernitano. È quanto emerso dall'operazione eseguita dagli agenti della squadra mobile della questura di Salerno e dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale che ha portato all'arresto di 37 persone, 30 in carcere e 7 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati a bariotitolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravata dall'aver agito per agevolare le attività delle associazioni camorristiche De Feo e Pecoraro. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, ha riguardato le città di Salerno, Battipaia, Ponte Cagnano, Faiano, Bellizia, Cerno, Monte Corvino, Pugliano, Cava dei Tirreni e Lanciano. L'attività avviata nel 2017 è stata condotta con intercettazioni telefoniche ambientali che hanno permesso di acquisire fonti di prova decisivi a carico delle persone arrestate, complessivamente gli investigatori hanno sequestrato 8 kg di cocaina, 15 di hashish, armi e munizioni, tra cui un fucile a canne mozze e due pistole, di cui una con silenziature. L'inchiesta ha permesso di ricostruire gli assetti dei due gruppi criminali collegati tra di loro e a venti, base operativa della provincia di Salerno, ma con ramificazioni che si estendevano anche nel Napoletano e nella provincia di Roma, con la presenza anche di qualche soggetto colombiano. Un giro d'affari di migliaia di euro che per la sola piazza di spaccio di Ponte Cagnano-Faiano è stato quantificato in circa 60 mila euro a settimana.